è un weekend importantissimo anche e soprattutto per la 600 open stock quella che può essere una gara estremamente importante galloni ferrari caffagni san savini chi più ne ha più ne metta sono tutti tra i favoriti per la vittoria finale di magione a tra poco per l'inizio della gara parti da un'ottima posizione segno che questa pista ti piace ma segno soprattutto che sei pronto a dare battaglia per la gara sì siamo pronti per fare una bellissima gara sarà una gara combattuta e dura soprattutto e partiamo bene perché comunque siamo in seconda fila perciò dai non è male e niente speriamo il meglio il trucco per essere efficaci su questa pista e sicuramente non farsi passare michael ferrari scatti senza nessuno davanti la posizione ottimale per ambire al massimo risultato ciao sì proviamo proviamo a tenerlo a galloni è andato molto forte anche lui cerchiamo di scappare sfruttiamolo come gancio perché sicuramente qualcosa in più ne avrà però proviamo a tenerlo in ruota e andare via dal gruppo e quindi questa gara cosa si decide all'ultima staccata secondo te non lo so il mio diretto avversario è san savini quindi che qui in fianco è andato fortissimo anche lui non saprei vediamo vediamo come partiamo vediamo come evolve la gara si allineano tutti quanti i piloti galloni favorito chiaramente per la vittoria finale con la pole position ferrari vicino tutti quanti gli altri via partiti buona la partenza da partiti galloni rimane incastrato san savini mi sembra che perde diverse posizioni caffagni si fa subito aggressivo per provare a prendersi la terza posizione vediamo se riesce nel ruota ruota con il diretto contendente a prendersi adesso capiamo subito quello che è successo caffagni si si è messo terzo ottimo ottimo l'inizio di giacomo jack caffagni che se ne va in terza posizione e allora lì davanti situazione interessante con galloni che si prende la prima posizione ferrari e caffagni che sono un po poi quelli che si giocheranno probabilmente la vittoria finale per quanto riguarda la competizione e la classifica di partenza dice san savini 68 subito una caduta intanto attenzione una caduta da parte di osler chissà se riesce a ripartire la moto non ci riesce furioso 64 osler 64 ferrari 58 caffagni questi sono i punti per quanto riguarda la partenza di questa gara galloni sta cercando subito del team atomico racing a provare a scappare chiaramente galloni a tutte le intenzioni per provare a prendersi 25 punti che sono fondamentali per rimettersi in vista un po la situazione di lamagni quella di galloni in sound of thunder galloni ferrari caffagni e poi via via tutti quanti gli altri piloti che stanno cercando di contendersi quelle che sono posizioni interessantissime i trelli davanti però stanno cercando anche loro di serrare un po le fila e stanno cercando di scappare però di incutere una sorta di ritmo ferrari lo sappiamo che team bikers d'accordo lì è da sempre una spina nel fianco e la sua crescita la notiamo spesso nella seconda parte della gara questa volta lo troviamo già secondo e allora attenzione anche perché galloni mamma mia che scodata da parte di ferrari caffagni si avvicina tantissimo dopo quella scodata da parte di ferrari ferrari che prova ad allungare sul contro rettilineo che tra un po gli mette prima della doppia chicane che ci regale ci consegna le moto al passaggio per quanto riguarda il transito del terzo giro caffagni è comunque vicino a ferrari i primi tre sono nelle belle posizioni stanno cercando un po di non so se giocano al gatto col topo soprattutto ferrari e caffagni mi sembra che ferrari qualcosina in più possa averne qui c'è stato quel mezzo errore visto come ha ballato ha fatto un vedi come balla nando buon michael ferrari e adesso mette tra sé caffagni un paio di decimi sono veramente pochissimi galloni intanto sta incutendo un ritmo che è davvero 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 tarantolato altro passaggio questo interessante e molto di tempo la parte san salino è crollato in decima posizione clamoroso era partito bene era partito malissimo scusatemi era partito in maniera interessante weekend party san salini però la partezza è stata clamorosamente negativa la parte sua è crollato si trova in decima posizione caffagni è vicinissimo a ferrari lo ricordo e davanti galloni vola alle spalle battiglini sol ca per quanto riguarda la coppa umbria si stanno cercando di battagliare di dare un certo tipo di di peso di importanza e da questo punto di vista anche qua situazione particolarmente invariata per quanto riguarda i distacchi a potete vedere anche già visivamente ferrari ha preso qualche decimo sul buon caffagni e vi posso garantire che monitor dei tempi alla mano gli ha mangiato tre decimi tre primo e secondo intertempo adesso resta da capire al terzo intertempo quant'è il distacco è chiaramente due e quattro il distacco galloni ferrari ma caffagni nell'ultimo tratto riesce a riprendersi battiglini e solca alle spalle a fare anche loro una allora andare anche loro una provenza di importanza la loro sfida lo ribadiamo sono due wildcard quindi poi a scalare bisognerà fare diversi ricordi per fare diversi calcoli quarto giro sansavini sta cercando di risalire la china e si trova già in ottava posizione dalla decima ne ha guadagnate due chiaramente cesare sansavini è alla ricerca e alla disperata disperato tentativo di recuperare quante più posizioni possibili cesare sansavini sprecipitato sprofondato in precedenza in decima posizione questo è un onboard interessante da parte di michael ferrari guardiamo il distacco da parte di un super concentratissimo daniele galloni che sta facendo la sua gara e la sta facendo in maniera davvero 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 importante alle spalle caffagni ecco questo sì che è un elastico e bisogna capire per quanto dura e soprattutto due cose uno caffagni ha la forza di provare ad insidare la posizione ferrari primo secondo è ferrari che sta aspettando sta cercando di non usurare le gomme per provare a scappare perché per adesso la gara dice questo la gara dice che i due sono vicini intanto guardate con la coda dell'occhio sansavini come sta cercando di rimettersi e di riavvicinarsi a tutti quanti i piloti cesare sansavini autore di una partenza shock autore di una partenza clamorosamente drammaticamente negativa non è nelle sue corde ma sta rimontando il quinto giro si mette in sesta posizione davanti è invariato sansavini è vicino non ancora tanto a cavallara e deve provare a scavalcarlo però lo ripeto e lo ribadisco scavalcare delle wildcard si ti dà almeno l'abbrivio di provare ad avvicinarti agli altri ma la valenza quale se poi non trovi davanti un pilota non per cui ne valga la pena scavalcarlo ma un pilota per cui valga la pena provare un approccio perché guadagni dei punti in classifica generale questa è la realtà la realtà dice giacomo caffagna alle spalle di michael ferrari in lotta per la seconda posizione davanti galloni spedito come un treno sta volando letteralmente ecco sembra più una gara di sound of thunder che una gara di 600 di solito c'è molta più competitività oggi si sono cristallizzati in queste posizioni e a meno che non esplodano di vampi una super sfida tra il secondo e il terzo c'è tra caffagna e ferrari o meno che non crolli drasticamente qua per quanto oggettivamente che ho sentito sembra davvero complicato un crollo di prestazione da parte di galloni che sta facendo una gara meravigliosa sembra davvero una gara più da sound of thunder dove si cristallizzano le posizioni ancora e sempre galloni davanti lo possiamo vedere con un importante serpentina daniele galloni sta continuando a mantenere il primato lo ricordiamo ferrari secondo in terza posizione inchiodato sempre lì giacomo caffagna che sta cercando di rimanere incollato agli altri dato un'immagine via via di tutti quanti piloti che scorrono sul maggiore circuito 2507 metri di percorrenza e un eccolo qui caffagna che ha disperato tentativo per cercare di prendere ferrari davanti a sé sarebbero punti pesantissimi per entrambi in vista in ottica campionato e però un distacco decisamente più importante da questo punto di vista rispetto a manco il ferrari che si trova in seconda posizione continua a martellare come chi sta martellando davanti e daniele galloni questo punto iniziamo a farci qualche domandina quale sia l'effettiva prestazionalità non tanto da parte di caffagna o ferrari ma quanto a questo punto galloni possa scappare e caffagna un secondo se quando uscivano dalla doppia chicane caffagna era appaiato a ferrari adesso a un secondo ed è un distacco molto più veritiero molto probabilmente rispetto a quello che accusava in precedenza ferrari con la sua eleganza che lo contraddistingue una persona molto loquace molto schifo anche soprattutto fuori dal paddock sta cercando in maniera intraprendente di avvicinarsi quanto più possibile galloni ma sembra in questo momento non averne o meglio sembra galloni averne molti più intanto alle spalle san savini attaccato a il buon cavallara e sta cercando in qualche maniera di strappargli i decimi che possono essere pesantissimi importanti per provare a scavalcare mentre ferrari allunga da caffagna monitora di tempi alla mano caffagna ferrari sembrava che avesse addirittura sbagliato l'ingresso in curva ma sta guadagnando ancora tempo allora questo punto probabilmente caffagna si sta accontentando della terza posizione perché mi sembra che ferrari abbia ancora allungato e vi posso dare la certezza perché il monitor dei tempi davanti lo abbia fatto di altri cinque decimi altro giro intonso immacolato per michael ferrari altro giro intonso per galloni non lo stiamo commentando perché davanti sta facendo una super gara un po come dietro a caffagna ci sono sul ca ci sono battiglini che stanno facendo la loro gara è un po come alle spalle non lo vediamo inquadrato spesso cesare san savini ma sta risalendo la china ha scavalcato diversi piloti a questo punto è attaccatissimo al buon cavallara che sta provando a scavalcarlo e probabilmente tra poco ci riuscirà anche perché ha un ritmo decisamente più tarantolato proverà probabilmente san savini addirittura ad arrivare fino a sol ca e capiremo quanto riuscirà ad avvicinarsi mentre caffagna sta continuando in qualche maniera la sua sfida personale col diretto contendente che ferrari ma a questo punto mi pare abbastanza chiaro e palese come caffagna abbiamo un lato di schianto il tentativo di poter acquisire quella posizione come stia provando in tutte le maniere ed è tutto di schianto cercare di rimanere in quella posizione e cercare di farlo in una maniera più interessante possibile ferrari intanto alle spalle sta cercando anche lui di forzare un po il terreno di andare con tutta quanta la forza e la vehemenza che ha nella sua moto e veniamo inquadrato adesso michael ferrari che affronta le ultime curve prima dell'ingresso finale siamo praticamente a tre quarti di gara i piloti iniziano anche essere abbastanza stanchi ci avevano confermato che l'usura delle gomme non avrebbe portato molto probabilmente ad un crollo drastico per quanto riguarda la performance è tanto inquadrato anche san savini lo vedete che sta battagliando con i piloti alle spalle in particolar modo con i piloti che sono le wild card della coppa umbra ma lui chiaramente non ci sta ha avuto una partenza ad endicap e sta cercando di risalire la china anche se non altro per un una cosa sua personale perché ha bisogno di dare respiro e di far capire che comunque lui c'è ricordiamo e rivediamo la classifica di partenza prima della gara 68 san savini osler ferrari 64 caffagni 58 così facendo ferrari farebbe un gran bel balzo ma oltre anche al balzo di galloni perché galloni si prende difenderebbe diversi punti in più al di là del fatto della vittoria ci sarebbe la pole ci sarebbe il giro veloce allora quel punto sarebbe poi tutta un'altra gara ma ferrari mi sembra che sia andato in gestione un po come gestione c'è giacomo caffagni lo ripetiamo lo ribadiamo dall'inizio anzi lo stiamo già dicendo adesso da tre o quattro gira questa parte perché fondamentalmente le posizioni si sono cristallizzate e non sembra aver chissà quale forza alle spalle i vari piloti per poter battagliare per chissà quali posizioni ma in generale in realtà anche alle spalle si sono molto cristallizzate l'unico che ha cercato di risalire la chinello facendo poi effettivamente in anellando dei buoni giri alle spalle san savini che aveva forse la la forza per poter stare magari non davanti con galloni ma per giocarsi la seconda posizione ma con la partenza d'endicap clamorosa gli ha impedito fondamentalmente di poter gozzovigliare di poter stare con i diri impettai in testa alla classifica mentre fondamentalmente in testa alla classifica chi non si è mai scassato è stato daniele galloni che ha avuto e ha una costanza clamorosa sta continuando sta proseguendo su un binario che il suo e san savini intanto sta rientrando anche per continuare a prendersi delle posizioni per provare a prendersi delle posizioni che più gli competono ma lì davanti galloni non abbiamo quasi mai visto questo significa che galloni sta facendo una gara straordinaria ed è imprendibile per nessuno dei piloti da davanti quando ormai mancano tre giri alla fine e non è più dipanata la situazione ma è abbastanza chiara palese cristallina quello che sta succedendo tra i piloti di testa abbiamo il trio galloni ferrari giacomo caffagni eccolo qua inquadrato caffagni non lo vede più ferrari sta accusando 8 decimi a giro giacomo caffagni e fondamentalmente come se avesse detto sai che c'è mi tengo alla terza va bene così ci rivediamo a varano il weekend del 6-7 agosto e chissà quello che succede anche perché i piloti lo ripetono il modisco con questa classifica che sta andando a delineare sono vicinissimi hanno una hanno davvero un avvicinamento una vicinanza tra di loro incredibile impennatina di ferrari mentre sta andando ad affrontare delle curve interessantissime prima dell'emissione al contro rettilineo che poi gli permetterà di arrivare alla doppia chicane prima del rettilineo finale ed è un michael ferrari che sta trovando anche davanti a dover compire dei doppiati allora ribadiamo una cosa ferrari molto più vicino a galloni di quanto non sia caffagni rispetto a lui gara estremamente importante per ferrari che lo proietta e a questo punto sia il giro di boa dovesse finire così non lo diciamo mai perché poi lo sappiamo che sono scaramanti ci toccano ferro e chi li può sentire sti ragazzi e non è michael ferrari soltanto il caso ma un po' tutti giustamente scaramanzia la parte stiamo iniziando a fare anche un po' di calcoli cosa che poi devono fare anche i piloti giustamente sotto il loro cascone sulla livrea sulla scocca della loro moto mentre passa galloni mentre passa ferrari e tra poco passerà anche giacomo jack caffagni quando manca pochi giri non è la fine della gara i calcoli che si devono fare i piloti sono molto chiari il calcolo che sta facendo ferrari è sai che quasi quasi 4 quarto al giro di boa sono davanti a tutti e chi lo sa quello che può succedere è quello che mi possono dare intanto giacomo caffagni non sta scavaccando nessuno è un doppiato ed è un doppiaggio che sta compiendo un po' come quelli che hanno compiuto in precedenza i piloti di testa però qualche calcolo deve iniziare a fare soprattutto deve anche iniziare a pensare e se a varano va così e se poi a cremona va così potrei laurearmi campione della classifica di categoria intanto è quello qua giacomo caffagni è pronta curve interessantissime con il suo motone è davvero tantissimo amore al seguito di questi ragazzi ragazzi giovanissimi che si stanno affacciando al mondo delle moto lo stanno facendo tramite il MES un moto che abbiamo testato lo sappiamo una grande famiglia quella che è stata creata e costruita da Bruno Sandrini e Filippo De Monte e poi un po' tutti quanti i ragazzi che lavorano alle spalle che lo fanno con tantissimo ardore con tantissima personalità dando, attribuendo una grande importanza a questo capolavoro che è quello del MES ormai siamo praticamente alle battute finali della 600 e San Savini ha praticamente preso di stacchi inalterati l'abbiamo visto un secondo e mezzo tra Solca e San Savini con San Savini che sta provando in tutte le maniere ad avvicinarsi ai piloti di testa battiglini davanti e quello che manca sono veramente pochissime una manciata una manciata no ma qualche piccola migliaia di metri anche perché sono 2.507 metri di percorrenza del Magione Circuit un circuito che ha regalato grandi imprese e anche lo scorso anno ha regalato grandi e titaniche importanti prestazioni ai partiti piloti le maniste diverse da Sorrenti nella 300 in RBF Facciolini in Mille abbiamo visto la vittoria di Lamagni siamo stati davvero partecipi in raceata che abbiamo visto vittorie di Benedett cadute vittorie di Campanini in Mille Ogredi che è stato bravissimo fortissimo con proietti tanto spettacolo anche questo weekend come sarà il weekend di Varano un weekend infuocato visto che le temperature non ci dicono particolarmente bene in queste settimane fa caldissimo ma fa un caldo bellissimo un sole accecante abbagliante che è quello di Galloni secondo Ferrari che esulta come un pazzo terzo Giacomo Giaccafagni finisce così con il ritiro di San Savini guardate scusatemi non di San Savini ma di Battiglini che deve abbandonare lì la moto clamoroso clamoroso Battiglini sul che San Savini arrivano vince Galloni secondo Ferrari terzo Giacomo Giaccafagni si ribalta completamente la classifica finale si stravolge totalmente la classifica per i ragazzi guardate che scena brutta da questo punto di vista da un punto di vista sportivo per il buon Battiglini ma vince Galloni secondo il buonissimo Michael Ferrari terzo Giacomo Giaccafagni sulle immagini di un Battiglini sta provando a portare la moto a mano non riesce a concluderla furioso Battiglini termina così Galloni Ferrari Giacomo Giaccafagni Giacomo 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 Giac